Si conclude in bellezza con Maria Amelia Monti, con la parrucca di Natalia Ginsburg, un successo ormai conclamato perché abbiamo quasi il tutto esaurito, sabato 26 marzo, ore 20.45, Teatro Comunale di Belluno. Il Circolo Cultura e Stampa Bellunese è pronto dunque all'evento finale della 45esima stagione di prosa, un'immancabile appuntamento per gli amanti del teatro che amplia l'offerta culturale in provincia. Maria Amelia Monti, accompagnata da Roberto Turchetta, interpretando la parrucca, chiuderà dunque una stagione che ha riscosso particolare successo fra il pubblico di casa nostra e non solo, donando un po' di spensieratezza e le grandi emozioni di sempre dopo il periodo difficile delle restrizioni Covid. C'è stata una straordinaria rinascita, partecipazione quasi commovente del pubblico bellunese perché più di 500 hanno sottoscritto l'abbonamento. Le sorprese non sono finite perché il Circolo è già al lavoro per regalare ai bellunesi nuove accattivanti proposte. Ho già preparato la prossima 46esima stagione di prosa con grandi, grandi personaggi del Teatro Nazionale Italiano.